I primi computer della Apple in un museo italiano che fa invidia alla California. Se siete fanatici della mela di Steve Jobs, tuffatevi con noi in questa operazione nostalgia. Nei sotterranei si aggirano fantasmi tecnologici. Al piano di sopra c'è la storia del personal computer. Comincia con Apple I, ideata da Steve Jobs e Steve Wozniak. È il 1976. Veniva fatta da un artigiano che a mano costruiva le cassette in legno. Il trezzo di questa macchina era 666 dollari, 66 centesimi. Praticamente il numero del demonio. Ecco il museo di All About Apple. Non siamo nella Silicon Valley, ma a Valleggia, Borgo del Savonese. Un museo fatto in casa da un gruppo di appassionati, ma con la più grande collezione al mondo di pezzi Mac, tutti funzionanti. La invidiano anche in California. Pezzi introvabili e leggendari, come questo. Si chiama Lisa. È la prima macchina sulla quale ha visto la luce l'interfaccia grafica che conosciamo tutti oggi noi. Un dinosauro del 1983 che costava 10.000 dollari. Con la stessa cifra, a quell'epoca in America si comprava un monolocale. Un'altra volta. Un'altra volta. E allora. Grazie a tutti.